benvenuti a una nuova puntata di doctor penis oggi con noi c'è pierfranco a 48 anni è stato operato di per un tumore alla prostata diagnosticato in età molto molto precoce molto giovanile ovviamente dopo un percorso di riabilitazione che non ha dato i risultati che si attendeva da un punto di vista sessuale fortemente stressato e deluso abbiamo impiantato circa otto mesi fa una protesi idraulica peniena tricomponente oggi è qui per testimoniarci la sua esperienza e come si sente soprattutto come stai oggi va io benissimo molto bene ho ripreso la mia vita mia vita sessuale e soprattutto rapporti sociali si sono aperti dopo operazione è stato un cambiamento in 24 ore poi dal giorno alla notte ho avuto la vita che mi sei cambiata completamente con questa protesi riesco di nuovo confrontarmi con gli amici posso avere una vita normale e a livello sessuale sono ancora più diciamo vantaggiata che non una persona che sta bene è un approcciata regolare cosa che non avevo perché comunque sto raggiungendo i livelli con questa competta dottoria cioè ecco sono illimitati per cui io da un impotenza assoluta per due anni è impotente castrato diciamo così e anche poi la castrazione è anche mentale dopo quindi è stato in 24 ore ho ripreso sia fisicamente che mentalmente una un benessere indescrivibile senti l'orgasmo il piacere l'eagulazione non ce l'hai più perché ovviamente non è più la prostata ma tutto quello che fa parte della sensazione del rapporto sessuale com'è tale quale prima se non migliore perché prima avevo se dovevo quando avevo l'orgasmo se dovevo un attimino riprendere la situazione ecco magari con una sigaretta fare due parole ora questa cosa è continua riesco a avere anche due orgasmi nello stesso rapporto sessuale non ho più problemi di tempismo perché la cosa è veramente veloce per farlo diventare retto e altre tanto veloce per farlo diventare poi molle no quindi è giusto una sono tre touch tre tocchi che cambiano la vita tocco magico senti ma la sensibilità del pene cioè tu pensi di avere una protesi o hai il tuo pene normale fisiologico io il mio pene è naturale che uno sente una protesi ma non è una sensazione poi diventa parte del tuo corpo e non si sente più le donne se ne accorgono e devo dire la prima esperienza che io gli ho raccontato quello che io avevo dopo rapporto sessuale attualmente che in bocca sono andiamo nella nell nell'intimo non se ne raccorta un po nel coltacco il tocco della mano ma ecco fino adesso non ho avuto nessuna comple nessuno che si è lamentata anzi devo dire che tornano tutte dottore non ho avuto problemi lo rifaresti cento volte cento volte cento volte perché poi è stata così veloce una operazione velocissima che ti cambia la vita in modo radicale proprio dal nero più assoluto all'arco valeno ai colori da 0 a 10 quanto sei contento 11 va bene va bene ok perfetto questa era la testimonianza di pierfranco grande grazie grazie ci vediamo la prossima puntata di doctor grazie ci vediamo la prossima puntata di città